In questo giorno così speciale, ci sentiamo tutti felici, diventiamo un po' più buoni, peccato che non può durare. Kevin, una piccola creatura in lotta per la vita, un problema da risolvere ancora prima di sapere cosa è un problema. Provare emozioni come la sofferenza, all'oscuro di ogni significato, ma chiara e nitida, gli appare la figura di una madre, Michela, così presente e forte. Insieme al suo compagno Alessandro, con un coraggio da invidiare, affrontano un percorso tortuoso, senza condizioni, con grandi sacrifici a qualsiasi costo, dare al proprio figlio la dignità di vivere come ciascuno di noi. Natale 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 To Life C'è sempre verità Dare al proprio figlio la dignità di vivere come ciascuno di noi. facciamo finta che Kevin sia figlio nostro anche solo per un giorno